amore sto facendo il filmato sta conoscendo il territorio adesso che c'è tesoro? bimbe eh no eh mi sembrava bello mi sono tornata a casa bravo non pensi io quel giorno mi pensavo che era così tranquilla ma sì amore sei proprio un blouse di chi è? è sua la pallina tesoro? l'hai presa per lui? Morris guarda che c'ha la pallina che bella ha detto datela insieme non la vuole prova a tirarmiela lo sai perché? adesso non conosce la casa vuole imparare a conoscere la casa vedi che sta girando tutti gli angoli e che dice ma questa bella casa adesso è mia ah ho cercato di odorare perché i cani con l'odore si parla da conoscere che c'è amore? vedi tutto prova a tirargliela che a lui gli piace prova a tirarla come abbiamo giocato ieri sera vieni Morris vieni adesso è troppo non lo vuole eccolo bravo bravo si tutto bello piano 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 con delicari grazie grazie